C'è trepidazione e fermento per la nuova stagione, la settima per la precisione, di Squadra Antimafia. Questa sera va in onda per l'appunto la prima puntata, vediamo qualche anticipazione. Ricordiamo tutti che la sesta edizione si conclude con il rapimento del commissario Domenico Calcaterra, interpretato da Marco Bocci, che viene quindi tenuto segregato e torturato per ottenere la chiave dell'archivio Crisalide. A sostituirlo arriva il nuovo vicequestore, Davide Tempofosco, interpretato da Giovanni Scifoni. Nell'intento di ritrovare il collega e durante le fitte indagini la squadra scopre un grande e losco giro di denaro sporco gestito dal broker, un misterioso personaggio. Davide, perciò, si rivolge ad Anna Cantalupo, un'esperta con cui aveva collaborato in passato ed interpretata da Daniela Marra.